ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato a blampa blampa 50 fadoms batiscaf cronograph flyback l'ho detta tutta è uno scioglilingua sto nome qua altro non è che il cronografo della serie batiscaf della famiglia 50 fadoms chi è che non conosce il 50 fadoms di blampa uno dei primi se non il primo orologio diver della storia con la ghiera girevole no è un capostipite e stiamo parlando della casa che anche in questo caso è la casa più antica o dell'orologeria o quella più insomma c'è sempre un po di diatriba su chi è qual è la più antica perché qualcuno dice che poi blampa ha smesso di produrre per un periodo quindi non si deve contare insomma quando non si sanno bene queste cose la cosa migliore da dire è una delle più antiche uno dei primi così non sbagli mai no poi li ammazzate voi nelle diatribie no è questo perché questo perché quell'altro i tifosi a me non mi interessa ho deciso di portarlo sul canale non serve nemmeno spiegarlo perché perché è un orologio di pregio un orologio con la o maiuscola uno di quelli che sono quasi inarrivabili per ognuno di noi no e mi piace mi piaceva portarlo sul canale e me lo ha messo a disposizione l'amico giacomo che è titolare della gioielleria pasquale di domenici di viareggio che è partner ufficiale del canale e concessionaria del marchio e me lo mette a disposizione me l'ha messo a disposizione ora mi dispiace quasi quando gli chiedo questi orologi qua perché non è che gli faccio quel gran favore no non è che dopo la recensione di questo tipo qua c'è l'acquisto compulsivo il click truc che uno compra subito l'orologio perché gli è piaciuto perché stiamo parlando di un pezzo che costa 20 mila euro e passa quindi non è che ne venderanno quanti vuoi che ne vende e quindi lui è magnanimo me lo mette a disposizione ugualmente io glielo chiedo ma magari farebbe più comodo che io recensissi 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 insomma che facessi la recensione di un orologio economico che magari ne vende 10 20 30 in un anno no insomma vabbè però mi piaceva portare questo e ho portato questo vedrete che non è non è malaccio diciamo così ora vi mostro l'orologio del giorno che è questo simpatico long jean admira del 1973 74 uno dei miei ultimi acchiappi vintage con il calibro l633 che altri non è che un età 28 24 ragazzi da quando l'ho preso l'ho indossato quasi ogni giorno praticamente me lo sono tolto qualche volta per mettere altri orologi per andare in posti fare cose vedere persone però ogni giorno lo indosso è preciso è preciso ho avuto fortuna ho avuto proprio fortuna mi piace è preciso l'ho preso per la collezione vintage dell'onjin però mi sta anche diventando un everyday watch no chiaramente lo devo togliere ogni volta che lavo le mani che mi metto a cucinare che faccio qualcosa che può prendere un colpo insomma va bene comunque giriamo la camera diamo un'oracchiatina a questo bam bam 50 fadoms batiscaf cronograph flyback e poi ci vediamo qui come al solito per le considerazioni finali apriamo la disquisizione enunciando come consuetudine quali siano le proporzioni risultanti dalle misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 43.5 mm spessore 15 mm ingombro trasversale al polso 49.7 e passo ansa da 23 mm attenzione che come a volte accade i 43.5 mm rappresentano il diametro della ghiera mentre la cassa vera e propria misura 42 si tratta in ogni caso di un si tratta di un orologio resistente a ben 30 atmosfere di pressione e che pur essendo sofisticato e complesso è pur sempre riconducibile al settore dei tool watch sofisticato perché è innegabile il fatto che sia i materiali che le finiture rappresentino il non plus ultra in quanto a modernità e tecnologia applicata complesso già che incassa un meccanismo complicato e all'avanguardia e perché il cronografo rappresenta intrinsecamente la configurazione più difficile da rendere impermeabile alle elevate pressioni. Stilisticamente parlando ci troviamo di fronte alla tipica cassa battiscaf con ansie poco voluminose corte e molto poco spioventi quasi dritte mentre è a livello materiali che incontriamo una peculiarità interessante ossia la ceramica non sono particolarmente attratto dalle casse che non siano in acciaio ma la mia tara mentale non mi impedisce di sapere riconoscere il valore aggiunto dell'utilizzo della ceramica nonché le difficoltà di realizzazione della stessa. Con tale materiale è necessario effettuare dei controlli rigorosi in ogni fase della lavorazione questo per tener conto delle deformazioni possibili dopo la cottura in forno ad alta temperatura va da sé che per ottenere una cassa con misure e qualità entro le specifiche richieste occorre un maggior dispendio di energie e di controlli e tutto ciò che è difficile da ottenere da sempre è più attraente rispetto a ciò che è semplice avere. A livello meccanico occorre invece rimarcare i vantaggi e gli svantaggi con la ceramica avremo una maggiore resistenza ai graffi un minor peso ma una minore resistenza alla rottura. Mentre a livello estetico è la colorazione della ceramica a farla da padrone un nero semilucido striato che lo rende particolarmente originale. Ogni singolo elemento è realizzato in ceramica come i pulsantini crono che presentano una sagoma fungo la cui base presenta un diametro maggiorato rispetto al solito risulta evidente la volontà di renderli robusti alle sollecitazioni esterne in relazione ai 300 metri di impermeabilità richiesti così come ben dimensionata è la corona di carica che si avvita internamente alla cassa e che da posizione estratta mette già in mostra uno degli o-ring necessari a garantire la remeticità della chiusura. Si prosegue poi nella parte superiore laddove incontriamo il sistema ghiera che è realizzato con due differenti tipi di ceramica nera opaca la struttura portante e verde scuro l'inserto interno. Occorre poi specificare che i numeri presenti sono realizzati in liquid metal una lega metallica amorfa resistente alla deformazione peculiarità che le permette di aderire perfettamente all'intarsiatura presente sulla ceramica della lunetta. La durezza di questi due materiali legati assieme consente di aumentare la resistenza alle rigature della lunetta stessa. Essendo il 50 fathoms un diver in primis la ghiera è chiaramente unidirezionale con una suddivisione a 120 scatti fluida nella rotazione e con una presa eccellente grazie anche al diametro maggiorato ma visto che ci troviamo nei pressi del quadrante diamogli uno sguardo. In primis occorre sottolineare che i cromatismi in questo particolare caso rappresentano anche una decisa dimostrazione di savoir faire tecnico. Sappiamo che realizzare ghiere colorate in ceramica è alquanto complicato soprattutto per il punto di colore ben preciso che occorre andare a cercare. Alla luce di ciò la scelta di un quadrante degradé che tende a scurirsi esternamente si trasforma in una sfida realizzativa che sicuramente comporta uno sforzo aggiuntivo soprattutto nel passaggio del controllo qualità barra scarti di lavorazione. Alla fine della fiera è proprio questo insieme di total black della cassa e verde scuro della ghiera a trasformare il quadrante in una tonalità camaleontica nella quale il verde vero e proprio risulta evidente solamente grazie ai giochi di luce della finitura soleil. Finitura che non compare però ovunque ad ore 3 e 9 troviamo infatti due sub dial relativi alla parte crono ore e minuti. Bene qui troviamo un'apprezzabile lavorazione a solchi concentrici che assieme al fatto che sono su di un piano inferiore trasforma la percezione visiva. La colorazione è la stessa del quadrante stessa tonalità e stessa sfumatura ma grazie alla finitura a vinile appare più chiara facendoli risaltare maggiormente rispetto al quadrantino ad ore 6 realizzato invece sulla stessa base del quadrante principale. Questo perché si è deciso come spesso accade di raggruppare il design per funzionalità. Le sfere dedicate alla parte crono sono a bastone e a finitura metallica nera mentre quelle per la parte tempo si distinguono per la presenza di superluminova. Il rischio legibilità dei due sottoquadranti è quindi sventato dal contrasto che si viene a creare tra verde chiaro e nero delle sfere. Da segnalare che il lollipop sulla sfera secondi continui replica fedelmente in forma e misura gli indici a bicchierino presenti sul quadrante. Questi ultimi rappresentano un marchio di fabbrica del batiscaf non tanto per la forma ma tanto per le dimensioni. Sono in effetti alquanto piccoli e su di un altro orologio potrebbero essere additati come un punto debole mentre qui diventano il segno caratteristico della famiglia. Nonostante ciò la resa al buio è buona in quanto la finestra data non nasconde alcun indice ed il risultato è un corollario di accenti illuminati che riempiono il bordo esterno. Da segnalare appunto anche il lollipop sfera secondi e il dot sulla ghiera ad ore 12. Non ho ancora menzionato la complicazione del cronografo in quanto è strettamente legata al meccanismo che anima l'orologio ossia il calibro f385. Si tratta di un movimento di manifattura blampan un cronografo integrato a carica automatica unidirezionale con funzione flyback smistamento delle funzioni cronografiche tramite ruota a colonne e innesto verticale. Un sistema complicato e di pregio che viaggia a 36.000 alternanze orarie una frequenza di lavoro che attualmente è presente sugli orologi offerti solamente da una manciata di case orologiere. Il cuore del calibro è l'organo regolatore che qui vede una spirale libera in silicio a regolazione inerziale innestata su di un bilanciere in glucidur rivestito con una lega di platino palladio osmio e iridio. Allo stesso modo la massa oscillante è sì in oro 18 carati ma rivestita con una lega di platino al fine di conferirle un aspetto leggermente più sobrio. Un calibro di pregio composto da 322 elementi è infine regolato su ben sei posizioni. Ma vediamo adesso come agisce la funzione flyback. Con il pulsante ad ore 2 si avvia il cronografo. Premendo nuovamente lo stesso pulsante si arresterebbe la marcia come da consuetudine mentre premendo direttamente quello ad ore 4 si ha un azzeramento con la successiva istantanea partenza di una nuova misurazione. devo dire che l'azionamento dei pulsanti non è dolce occorre fare una certa pressione ma l'attacco è micidiale uno scatto secco e deciso che aziona il cronografo e dal quale si percepisce una solidità fuori dal comune. Direi di passare al cinturino ultimo elemento dell'insieme qui occorre precisare che è possibile avere l'orologio con il bracciale in ceramica nera elemento che fa lievitare il prezzo di ulteriori 8.000 euro circa ma anche con un nato cosa che secondo me invece lo sminuisce un poco. Alla luce di ciò dire che questo in tela vela è il giusto compromesso tra prezzo qualità e soprattutto impegno visivo. Un cinturino di eccellente qualità imbottito cucito a mano e con la parte esterna in tessuto tecnico e quella interna in morbida pelle. Lo spessore è consono alle dimensioni dell'orologio. Un cinturino troppo sottile avrebbe snaturato la globalità del sistema mentre la rigidità è leggermente eccessiva ma forse è meglio così sarà il tempo a forgiarlo attorno alla forma del polso. Ultima nota a margine anche la fibbia e l'ardiglione sono realizzati in ceramica. Possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali. Orologio promosso. Eh direte voi voglio vedere con 20.000 euro di orologio non lo promuoviamo nemmeno. Che punti deboli vuoi che ha? Non è detto eh. Non è che in base al prezzo al costo devono essere tutti perfetti. Ognuno i suoi punti, i cini deboli di solito ce li ha. Oh faccio anche fatica a trovarne qualcuno qua. Lo devo trovare perché altrimenti vi deludo però non ne ho la più pallida idea. Una cosa volevo dire è che io parlavo nel video parlavo dicevo verde scuro, verde scuro, verde scuro e invece dalle riprese viene un verde abbastanza chiaro. Quello verde che vedete lì non è quello reale perché quando voi prendete l'orologio guardate così sembra quasi nero. Cioè vedete solamente dei riflessi verdi. È veramente scuro 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 eh. Inganna. Le riprese ingannano un pochino in questo senso. E ingannano perché è più bello così come dal vivo. Scuro con questa cassa nera e il quadrante degradé. La ghiera verde scura gli dà quel tono serio che quel verde del video lo rende un pochino più giocoso eh. No. È più bello dal vivo così. Ora. All'orologio promosso l'abbiamo detto. Cosa vuole? Bocciare. Ma quali sono i punti deboli? Non ce n'è. Non ne ho trovati ragazzi. Non ho trovati i punti deboli. L'unica cosa che può essere l'inserto ghiera che come luminescenza ha solamente il dot ad ore 12. È più che sufficiente per prendere i tempi di immersione anche al buio. No? Proprio veramente se vogliamo essere. Però se ci fossero stati i almeno i 15 minuti, i primi 15 minuti luminescenti insomma per darti un po' di senso d'orientamento. Ma non ci sono perché utilizzano liquid metal insomma assai cose. Quindi non è luminescente. È un metallo brevettato da loro che va a riempire gli interstizi scavati nella ghiera per fare i numeri. Quindi è quello è. Il resto appunti deboli ragazzi non ne ho. Come avete visto è un calibro di pregio, di primo ordine, con il rotore in oro ricoperto di platino. Ma no pensate ruota colonne, 36.000 alternanze. Ecco spesso quando io elenco gli orologi con 36.000 alternanze mi dimentico di Blancpain. Eh abbiate pazienza è una mia lacuna. E in questo caso è un valore aggiunto. 36.000 alternanze. Boh altri difetti non c'è. Dai non mi posso lanciare a cercare qualcosa che non c'è. Anche la leggibilità è buona. C'ha gli indici veramente piccoli ma è una caratteristica di questa famiglia e si legge bene ugualmente. Si legge bene anche il cronografo. Pur essendo nero su verde. Si legge bene. Boh niente da dire. Vogliamo dire fondell'aperto a vista. È zaffero anche questo eh. Ora non l'ho detto. Ma no. Perché io sto calibro qua lo voglio anche vedere. Non è che sia. Ecco. Non è che sia rifinito veramente in maniera super eccezionale. Ecco. Un altro punto debole l'ho trovato. È abbastanza spartano come calibro. Con questo non è che si può mettere in dubbio la qualità. No. Però magari un pochino più. A parte che ne ho viste in due versioni. Questa e poi ne ho vista una che c'è più perlage. No. Ma però. Perché questa è diciamo rifinita con delle striature. Più che perlage. Va bene. Comunque dai punti deboli non ce n'è. Un orologio che costa 20.250 euro. Quello con il bracciale ne costa 8.000 in più. Se avete i soldi per comprarli. Levatevi gli spizzi. Se non ce li avete come me. A parte che ecco. Blampang è uno di quei marchi che a me non è che mi. Questo diventa perso. Allora ecco. Se parliamo di gusti personali. Allora i punti deboli li trovo. La cassa nera a me non piace. Al momento gli orologi con la cassa nera non piacciono. Gli orologi verdi non mi piacciono. Quindi l'orologio al momento. Sempre al momento. Questo marchio non mi fa impazzire. Cioè gli riconosco. È un po'. Ognuno di noi ha dei marchi preferiti. No. Cioè abbiamo dei marchi preferiti. E non c'è nemmeno una motivazione logica dietro. E altre a cui magari si tende meno. Pur sapendo che sono validi. Si tende meno. Cioè Blampang per me è uno di questi. Non ho quella pill nei confronti di Blampang come non ce l'ho. Ad esempio di Alange Unzone. Saranno fatti bene. Costeranno una marea di soldi. Eppure non ho quella pill da volerlo come Grail Watch. Oppure anche scendendo come Nomos. Sono orologi bellissimi fatti bene. Eppure a me non mi viene voglia di comprare un Nomos. E ce ne sono altri di marchi così. Ognuno di noi ha queste. Però il Blampang come dico è un marchio di pregio. A chi piace. La cassa nera. Quadrante verde. Blampang. Non può che non apprezzare questo orologio e farlo proprio. Eh. Come diceva quello che ormai sappiamo chi. Io ragazzi buh. Eh. Ve l'ho letto l'orologio. Vi ho spiegato. Vi ho detto anche quello che secondo me non va. Poca roba. Più che altro è tutta soggettiva. Il resto se ci avete soldi compratelo. Se non ce li avete aspettate il prossimo orologio da 200 euro che recensirò sul canale. Eh. Siamo messi così. Buh. Mi sembra di aver detto tutto. Dai. Vado a vedere i gattini su Instagram che è ora. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua. E vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love.